Battere l'avversario, sistemare i piedi, ritrovare la tripla, De Negris, McCullough, tripla frontale, Wayne McCullough, Strelnieks, Penkins, Properonagia, ha capito tutto però, Andrea Pecchia, 3 contro 2, Zegarowski, palleggio, arresto, e altri due, l'inquadrato, Markus Zegarowski, Lazy, ancora per Zegarowski, poi Pecchia, battuta gentile, si va dai, wow, splendida azione offensiva degli ospiti Poi De Negris, torna da Zegarowski, Adrian, ancora per Zegarowski, che si prende la tripla, che bravo, Markus Zegarowski Lazy, poi Adrian, consegnato per Zegarowski, in fondo, Zegarowski, due importanti Bocco di Nanji, Rivers per Rossato, brutto pallone per Rivers, che lo consegna di fatto a Nathan, Adrian Larga le braccia, poi il taglio backdoor di Zegarowski, che va in angolo dal Lazy Splendida azione della Vanoli Cremona Lazy, contro Pinkins, McCullough, poi Golden, entra per Eboa, c'è Canestro, c'è fallo Wayne McCullough Zegarowski, ancora per McCullough, si alza da tre Wayne McCullough Pecchia, la penetrazione, grande accelerazione, da parte di Andrea Pecchia, che riporta davanti i suoi Ha servito subito, allora, altro blocco, Lazy contro De Laurentiis, difende bene la Giova Eboa contro De Laurentiis, Rossato, arriva il canestro, di uno strepitoso, Paul Eboa Contro blocco di Pecchia, accetta il cambio, la difesa di Scafati Lazy contro De Laurentiis, poi De Negri, contro Logan, grande assist di De Negri, ispiratissimo Trova Pecchia, che trova Pecchia, De Negri, per Lazy, su di lui, Rivers, blocco di Eboa, il taglio di Eboa La tripla di Trevor, Lazy La partita, Zegarowski, chischia la meta di Cambiarena Zegarowski si prende, la tripla, e la mette, ancora lui, ancora Scafati, che era andata sul più 20 nel secondo quarto, che nella prima metà di gara stava soccando nettamente meglio, la Vanoli Cremona ha risposto alla grande Intanto, due